De Nicolò Riesce a tagliare ancora molto bene Per Crielesi Ottimo Il colpo di tacco del numero 14 Che si guadagna Calcio di punizione Fischia l'arbitro Crielesi Pollone che passa La respinta di Bernardini Poi c'è il tap-in Vincente però Di Casaldi All'interno dell'area di rigore Da pochi passi Fa 1-0 Per il football Che va in vantaggio 14 minuti La riceve qui Crielesi Che per ora È il migliore dei suoi E lui Ad essersi guadagnato Il calcio di punizione Dal quale È derivato poi il gol Dell'1-0 Qui sbaglia il cambio di gioco Ma è comunque Sempre presente Nelle manovre offensive Del football Forse a cercare Crielesi Che viene anticipato Ma è Caparbi Il numero 14 E la recupera Pallone che torna proprio a Frullini Che la gioca per Crielesi Che si guadagna Calcio di punizione Sta veramente mettendo in difficoltà La difesa avversaria Il numero 14 Molto bene Crielesi Che si lancia in una corsa solitaria Ancora Crielesi Riesce ad appoggiarsi all'indietro Per Vazzana Che calcia Dall'impressione del gol Ma che azione questa Del numero 7 E del numero 14 Per Vizzera Per Vizzera Vizzera Vazzana Di ritorno per De Nicolò Anticipato Crielesi Che riesce però a girarsi Il numero 14 Calcia Sempre pericoloso Crielesi Quando ha la palla Tra i piedi Tenuto testa Finora al magnitudo Frullini ora Verso Bianco Ha la possibilità anche Di provare a calciare All'arga Invece per Crielesi Cross sul secondo pallo Allontanato Vazzana La rimette per Bianco Di prima Di poco Alto Sopra la traversa De Nicolò Con le mani verso Frullini Che prova a metterla dentro Ci arriva Frazzini Che prova a girarla Verso la porta Pallone che arriva Al limite Per Crielesi Un sombrero Il tiro Murato Da Rossini Non è finita qui Crielesi Ci prova ancora Poi pallone Che arriva direttamente A Bernardini Dare quelli Del magnitudo Che cercheranno Ora di trovare Il barco giusto La perde Il magnitudo De Nicolò Va verso Crielesi Attenzione con il numero 14 Che cerca Ancora una volta Il secondo pallo Non trova la doppietta Però I compagni Sciuto Ferma tutto De Nicolò Sta facendo Un'ottima prova Lì sulla sinistra Crielesi Ancora Palla sul destro Prova il tiro Alto Il pallone Tirato Dal numero 14 Crielesi La porta sul destro Allunga la corsa C'è Casaldi Sulla destra Ancora Frullini Questa volta Serve il numero 14 All'indietro Crielesi Di prima Il tiro Vincente Di Pier Giorgio Frazzini È il 4 a 1 Del Football Club Che al 22esimo Mette in ghiaccio La partita 4 a 1 12 frullini Fermato qui da mafia La recupera La recupera però Frullini Crielesi Di tacco Per Frullini È il 7 a 1 Del Football Club Che corona L'ottima prestazione Di Frullini E di Crielesi Colpo di tacco Del numero 14 Conclusione A rete Del numero 11 7 a 1 Crielesi Di Frazzini Grazie a tutti Grazie a tutti.